Delineare nuove strategie di gestione etica e responsabile delle risorse, elaborare progetti che diano ossigeno ai piccoli paesi, sempre più a rischio spopolamento. Con questo spirito il Centro di ricerca per le aree interne degli Appennini dell'Università del Molise e la Società Cooperativa Etiche hanno promosso il Festival dello Sviluppo Sostenibile, una o due giorni di divulgazione e formazione di scena a Campobasso e a Roccamandolfi. Nel paese Matesino si è parlato in particolare dei possibili vantaggi legati a una gestione consapevole delle risorse naturali e in particolare dei boschi. Il primo passo da fare è quello di ottenere le certificazioni. Danno un elevatissimo valore aggiunto ai boschi, qui da noi la gestione forestale è molto spesso limitata o comunque semplificata, quindi si tratta di taglio di boschi cedui per la produzione di legna da ardere. Ecco anche in queste occasioni avere un bosco certificato può dare sia un valore aggiunto al prodotto stesso finale, ma riconoscere anche i servizi ecosistemici prodotti da questo bosco sicuramente dà un valore in più anche per chi li frequenta, comunque per i turisti che possono venire nel nostro territorio. Sapere che il nostro patrimonio boschivo viene gestito in maniera etica, sostenibile e responsabile qualifica in maniera ancora più determinante quelle che sono le funzioni prodotte dal bosco, i cosiddetti servizi ecosistemici. Un discorso questo che al comune di Rocca Mandolfi sta molto a cuore. Il suo patrimonio forestale è notevole e offre grandi prospettive anche in considerazione dei progetti di sviluppo previsti dalla strategia nazionale delle aree interne e in vista della piena operatività del parco del Matese. Stiamo valutando anche un altro tipo di sviluppo sostenibile che possa dare un valore aggiunto sia in termini economici ma anche in termini di conservazione, valorizzazione. Le idee sono tante, ovviamente ora si tratta di integrare le varie misure e le varie opportunità, ovvero di integrare le opportunità che verranno dal nascente parco del Matese insieme a quelle che verranno grazie alla strategia aree interne e insieme alle specificità del luogo. Quindi bisogna unire queste tre strategie per cercare di immaginare lo sviluppo non solo di Roccamandolfi ma dell'intero territorio Matesino e penso anche altri paesi con lo stesso patrimonio boschivo tipo Guardareggia, tipo Campochiaro, tipo Sepino per fare una scelta territoriale e non solo una scelta comunale di lungo periodo e di strategia di sviluppo.